Talento, innovazione, creatività. Partecipa al videocontest. Va bene, signora Martini, le manderemo un tecnico in settimana. Grazie, arrivederci. Peppe! No! Pronto, Peppe! 17 con la 17, 18 con la 18, ma che ci faccio io qua? Ma i Peppe, c'ho un'idea. Sì, dimmi. Quanto? Regia. Perché se mi dici che ci sei è fatta. Ci sto, vengo subito. Vengo? Eh certo, come no? No, torno. Mi chiamo Margherita, in questa agenzia faccio l'account. Peppe mi chiamò quando ero al lavoro. Erano ancora i tempi del bed and breakfast. Prima domanda? Ciao, sono Totò, il regista di questo contest. Questa start-up è nata grazie al mitico Peppe che... Fare il grafico è un po' come fare l'amore, è una questione di alchimia, di sentimenti. Mi chiamo Veronica e sono la programmatrice di questo gruppo. Piano piano, 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 e poi telecamera a schiaffo. Lo sapete fare voi, ecco sì. E mi occupo di sviluppare delle applicazioni per... Per rimettere nel lavoro... Oh, ma sto messa così male, due ore. Ma la devo fare proprio questa intervista? Vai. Io sono Giuseppe, sono il direttore creativo di questa agenzia che oggi punti tre anni. Buongiorno, sei la chiamica dei camerieri. No, è che se è rotta. Mi fatti una data molto tarda. Vieni, vieni, sto mese non ti parlo tanto. Totò, c'ho un'idea. Grazie. 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 Grazie.